Grazie ai nostri ospiti innanzitutto, ai nostri illustri ospiti, ce ne saranno da ascoltare delle belle oggi anche perché entriamo nel vivo di una discussione che è molto attuale, che fa discutere, fa riflettere, pone molti dubbi e cominceremo con un video, un cortometraggio di Cristiana Capotondi e niente, non voglio togliere la parola a Francesca Shaochi che annuncerà l'incontro, lo introdurrà, grazie soltanto a voi per essere intervenuti e grazie ancora. Buongiorno, grazie a tutti per essere qui, grazie Francesca per questa opportunità di questo invito, di questa chiacchierata e ho il piacere tanto di presentarmi, sono Francesca Shaochi, farò da moderatrice a questo tavolo, abbiamo qui con noi Mario Adinolfi, direttore della Croce, personaggio abbastanza noto, è stato parlamentare per tanto tempo, il suo impegno politico, da quanti anni sei impegnato politicamente? Troppo. Oggi Mario rappresenta un po' quello che fa con la sua divulgazione, con il suo giornale, rappresenta la voce di quelle persone che credono in determinati valori e poi sarà lui a raccontarci. Abbiamo Alessandro Cecchi Paone, notissimo giornalista, uomo di cultura, pensatore, opinionista, tra le più importanti voci del panorama laico italiano. E qui insomma Alessandro chiacchiereremo su come il mondo laico interpreta a determinate necessità. Poi abbiamo Cristiana Capodondi, uno dei volte più belli e bravi del cinema del nostro paese che dopo la laurea in scienze e comunicazione, Cristiana decide di insomma anche cimentarsi alla regia e lo fa con questo cortometraggio che vedremo con il quale Cristiana ha pensato di interpretare determinati valori, trattando un tema molto delicato che è quello dell'adozione. E Cristiana ha deciso di fare questo video che ha anche i suoi soldi alla regia e di regalarlo al pontefice il giorno del primo anno di pontificato di Papa Francesco. Quindi diciamo che cosa migliore è vederlo e niente quindi se possiamo... possiamo passare alla proiezione? Passiamo anche le luci per favore... non vediamo nulla. Come state? Bene grazie dottoressa. Ci siamo quasi eh? Sì, bene. non vediamo nulla. Bello vero? Molto consonante. Cristiana, perché scegli come sordia la regia di raccontare la storia di una famiglia? Buongiorno. Sono parte molto contenta di essere qua, di riuscire a tornare a parlare di questo lavoro per il quale Francesca ti devo ringraziare, perché Francesca è parte fondamentale della genesi di questo lavoro che nasce così da desiderio anche di un po' di raccontare quello che nel primo anno di pontificato aveva rappresentato Papa Francesco, una sorta di elemento anche di rottura con il pontificato precedente e certamente una voce vicina alle persone, alle famiglie. E l'idea poi di diciamo raccontare l'adozione, l'affido viene naturale guardando appunto l'anno di pontificato questo bambino c'era veramente rimasto nel cuore, quindi abbiamo costruito una storia di finzione attorno all'elemento di realtà che era rappresentato da questa corsa che questo bambino fece durante la festa delle famiglie nel novembre del 2013 andando appunto a sedersi qua sulla poltrona del Papa. Quindi abbiamo fatto un lavoro opposto rispetto a quello che si fa generalmente, siamo partiti dalla realtà per poi costruire attorno una finzione. E qui il tema poi della maternità che molto spesso per molti di noi è puramente biologica, nel senso che non immaginiamo neanche che esistano altre forme di maternità. Invece in questo lavoro, così come la realtà e la finzione diciamo della scrittura poi sembrano una storia vera e unica, così un po' la maternità biologica assume dei limiti più in qualche modo meno netti rispetto a quella che è una maternità adottiva, una maternità che si può avere nell'esperienza dell'affido. E mi piaceva anche l'idea che non ci fosse un piano di separazione così chiaro, perché diciamo l'assunto è che la maternità è un modo di amore e che riguarda le donne che sono madri, le donne che non sono madri, le donne che lo diventano grazie all'incontro con i propri figli che sono dei bambini che hanno delle storie molto complicate, in particolare questi due bambini che sono stati adottati da una famiglia abruzzese hanno una storia molto particolare e devo dire che sono in qualche modo una famiglia molto particolare, ma all'interno di questa famiglia c'è tanto amore, quindi l'esperienza all'interno del mondo dell'adozione e dell'affido anche grazie ad Aibi che ci ha dato una mano è stata per noi un'esperienza molto positiva. Alessandro io entro subito nel vivo della chiacchierata e ti chiedo ma tutti i genitori a tutti i costi basta volerlo o c'è qualche limite? No, i limiti ci sono e chiunque abbia tentato di fare un percorso di adozione sa quanto sono difficili questi limiti. L'affidamento io credo che da un lato sia una forma di straordinaria generosità perché viene meno incontro al rischio che ci sia un capriccio dietro la voglia di avere un bambino preso da altri e dà più spazio all'aiuto di cui i bambini hanno realmente bisogno o quelli in difficoltà. Quindi capisco benissimo quello che diceva la cristiana, i limiti sono nel lunghissimo percorso che almeno adesso in Italia bisogna fare per ottenere dei bambini in adozione. Io ho molti amici che hanno fatto questo percorso e ne ho seguito una sorta di calvario. Il limite è certamente quello di garantire al massimo il bambino, la bambina o i bambini che vanno in adozione e su questo non possiamo che essere d'accordo. Ho sentito dire da tutti questi miei amici e conoscenti che forse qualche volta è eccessivo sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda l'accuratezza, l'insistenza, l'approfondimento di mille aspetti prima dei quali questi bambini e questi bambini non arrivano. Si parla di anni, non so chi di voi ha avuto questa esperienza in sala ma certamente è un periodo lunghissimo. Certo questo è un limite, ripeto è un limite per chi ha fretta perché chi arriva alla scelta di adottare come racconta nel film probabilmente ha alle spalle tanti tentativi andati a vuoto dal punto di vista biologico e dall'altra invece appunto la garanzia massima di bambini in difficoltà. Forse i tempi sono troppo lunghi per tutti nel senso che i genitori venendo da tentativi pregressi falliti di fecondazione assistita o di maternità e paternità biologica non sono più giovanissimi e i bambini in difficoltà sono in difficoltà già da molti anni e ogni mese che passa è un mese in più in orfanotrofi o magari in paesi non esattamente civili e attenti alle garanzie. Quindi i limiti ci sono e per quanto mi riguarda sono appunto limiti di prudenza e limiti di garanzia. Forse limiti troppo duri e troppo complicati. Dal punto di vista laico, visto che questo è il ruolo che mi viene dato, noi troviamo sbagliato che l'adozione debba per forza essere in testa a una coppia. Non entro qui nel discorso etero-omosessuale ma proprio io sono convinto perché per garantire a un bambino un futuro sicuro serva e basti un solo adulto che se ne fa garante per tutta la vita da ogni punto di vista. Perché dico questo? Innanzitutto perché c'è una precisa richiesta che viene dal mondo della società. I meno giovani qui ricorderanno la storia di una famosa attrice Dalia Di Lazzaro che ha cercato per anni di poter adottare un bambino o una bambina facendo tutti i percorsi giudiziari perché ha dovuto fare tutti i ricorsi ai tribunali prima italiani europei, tra l'altro assistita da una famosissima avvocatessa matrimonialista eletta nel centro-destra cattolica Marietta Assummascoca. Non ci è riuscita perché prevale questa idea che ci voglia una coppia eterosessuale per adottare un bambino. Ecco per noi questo è un limite inaccettabile ma da un punto di vista come sempre pragmatico. La coppia può scoppiare, quindi che garanzia dà una coppia per il bambino e i bambini adottivi? Quella coppia può divorziare, quella coppia può separarsi, quella coppia può vedere l'entrata in campo di un amante da una parte o di un amante dall'altra. In quella coppia uno dei due può cambiare come è successo nella mia vita orientamento sessuale. Quindi questo concetto che la coppia sia più garante del futuro del bambino secondo me si basa più su un'impostazione ideologica che sulla realtà. Se invece noi individiamo un singolo uomo o una singola donna come elemento di garanzia eterna fino a morte di quel bambino, di quella bambina, di quei bambini, possiamo star certi che al di là dei cambiamenti interni della vita di quel singolo adulto, quel singolo adulto sarà sempre il punto di riferimento educativo, affettivo, economico, pratico di quel bambino o di quella bambina. Cioè mentre la coppia può svanire nel corso della vita dopo l'adozione, fino alla morte il singolo adottante resterà comunque sempre, sia che si sposi che non si sposi, che si innamori che non si innamori, che si divida, che si separi, che cambi orientamento sessuale o meno. Quindi diciamo che alcuni limiti come quelli dell'adozione attuale sono comprensibili ma ingiusti in termini di lunghezza di tempi sia per gli adottanti che per gli adottati. Dal nostro punto di vista il limite è volere per forza la coppia genitoriale classica laddove secondo me la soluzione sarebbe nell'adottante unico che garantisce per sempre un punto di riferimento che questi bambini per definizione non hanno. Adinolfi, è così? Un solo genitore o due genitori nello stesso sesso o mamma e papà? Intanto fammi dire che i genitori adottivi compiono un atto a mio avviso eroico, è veramente la genitorialità più forte che possa esistere tant'è che statisticamente le coppie che adottano hanno una tenuta molto forte anche in termini di coppia perché avendo passato quel popolo di trafila molto pesante una volta che riescono ad adottare poi quel bambino, quella bambina diventano cemento per la coppia stessa e questo è un fattore statisticamente rilevato secondo me molto interessante da analizzare. Il lavoro di Cristiana ci spiega anche nella prima parte il dolore della questione del non riuscire naturalmente, cioè quell'inquadratura sulla parola infertilità a avere figli. Qui entriamo nel tema, secondo me interessante per un festival come questo, del diritto ad essere genitori che è un tema a mio avviso da sviluppare su cui bisogna ragionare anche perché è nel pieno dell'attualità del ragionamento che si sta sviluppando anche a livello normativo, anche a livello parlamentare. Esiste un diritto al figlio? Questo è il punto di domanda. O dobbiamo prima di tutto interrogarci sui diritti dei minori, dei bambini, dei figli, dei nascituri. Io sono ovviamente convinto che bisogna partire dal bisogno di chi nasce, del più debole molto semplicemente. Il soggetto più debole è colui che per la mia anche provenienza politica, vengo da sinistra, ho fatto il parlamentare del PD, il soggetto più debole è il soggetto da tutelare e il soggetto da tutelare in una dinamica come questa è sicuramente il bambino. Dunque, stando nella dinamica dell'adozione, questo bambino che è un bambino che indubbiamente ha attraversato delle sventure, può essere assegnato a un singolo, a un singolo purché benestante, diciamo così, perché questo è più o meno la razio delle cose che diceva Alessandro, che quindi se ne faccia carico in termini certi per lo Stato, per la norma. No, io non sono convinto. Io sono convinto che un bambino proprio per la sua condizione di sventura passata ha bisogno di una dimensione familiare costruita sulle dimensioni genitoriali proprie, che sono una figura materna e una figura paterna. Le durezze della norma sono durezze, a mio avviso, su questo sono d'accordo con Alessandro, eccessive, ma allo stesso tempo anche Alessandro riconosce che poi se nella coppia comincia a intervenire elementi di squilibrio tutto questo va a danno del bambino. Dunque l'analisi tutto sommato rigorosa dei criteri con cui si va ad adottare ha un suo senso, ha anche una sua razio, non a chiunque diciamo così e soprattutto non in una logica proprietaria rispetto al bambino stesso. Io credo che quel bambino, ma non lo credo perché su questo non c'entrano nulla le dimensioni religiose, lo credo perché la statistica me lo dice, ancora una volta i numeri mi regalano certezze da questo punto di vista. Per ogni bambino da adottare ci sono sette coppie regolarmente coniugate che ne fanno richiesta e questo è l'elemento centrale. Quindi il problema non è che in questo momento c'è carenza di persone che vogliono adottare i bambini, i bambini sono molti meno rispetto alle domande d'adozione. Dunque bisognerà evidentemente intervenire affinché questi processi diventino più ragionevoli e non si usi l'elemento dell'adozione possibile per fare entrare invece in campo un altro argomento che è quello dell'idea che la genitorialità è un concetto semplicemente astratto e che quindi la genitorialità può essere semplicemente compiuta attraverso questa parola che bisognerà pure riempire però di significati che è l'amore, per cui basta che c'è l'amore o lo slogan è love is love negli Stati Uniti, in questo momento c'è anche una discussione presso la Corte Suprema negli Stati Uniti proprio per ragionare intorno a questi temi. E qui non sono convinto a questo schema che sembra eccellente, basta che ci sia l'amore, risolve la questione. Perché fosse questo il ragionamento sicuramente poiché miliardi di bambini nascono in condizioni oggettivamente disagiate dovremmo tutti auspicare un trasferimento di massa di miliardi di persone verso l'upper east side di New York piuttosto che verso l'Europa occidentale affinché questi bambini abbiano così le condizioni migliori possibili. No, chi ha vissuto l'esperienza della paternità e della maternità sa che esistono legami indissolubili. Cioè quando un bambino nasce da un ventre materno, io l'ho visto con i miei occhi due volte perché ho avuto due figlie, quel legame non è un legame che puoi rompere magari con meccanismi come l'utero in affitto perché attraverso tutti questi ragionamenti si cerca di voler affermare, e lo vogliono affermare anche con delle norme in discussione in questo momento in Parlamento, che non servono mamma e papà. Bastano due papà o due mamme e va bene qualsiasi tipo di condizione. Nella campagna elettorale britannica che si è appena conclusa, il partito più progressista, almeno che così si considerava, che erano i verdi di Natalie Bennett, proponevano tranquillamente il matrimonio a tre o a quattro, perché intanto giustamente se l'amore è amore, più amore c'è, più persone si amano e meglio è per certi versi. Ecco io penso che questi schemi rompano un elemento su cui sarebbe bello ragionare oggi, perché questo è proprio il luogo proprio. Cos'è vero? Cos'è vero? Qual è la vera genitorialità? O è tutto opinabile? O è genitorialità qualsiasi cosa? Una relazione di un qualche modo affettiva con un minore per una fase determinata della propria vita, esposta oggettivamente alle intemperie degli avvenimenti? È vero che quel bambino che nasce da quel ventre materno ha un rapporto speciale con quel ventre materno, con quella persona, con quella persona che l'ha messa al mondo. È vero che quel padre che ha generato quel bambino ha un legame speciale, è un dato ineliminabile. L'idea che si possa andare con dei denari, per esempio, ad affittarsi tutto di una donna, a strappargli il figlio e a dire che questo è genitorialità e amore, a me sembra una rottura tremenda del patto con la verità. La verità è un'altra cosa. violenza. Questa per me è una violenza. Io quello che vedo lì vedo tanta violenza, raccontata per amore però. Questo è il problema, che spacciando il falso per vero ci arrivano quasi a convincere che siamo stordi di noi, che invece andarsi a affittare un utero, strapparlo e fare poi la progettura adottiva che si chiama step child adoption, cioè usano proprio l'espressione adozione, sia un atto positivo per quel bambino. Io credo sia una violenza terribile verso quel bambino, ritengo che siano meccanismi adottivi estremamente pericolosi, ripeto in Italia in questo momento in Commissione di Giustizia del Senato si ragiona su questo, cioè sulla step child adoption, si chiama così, adozione del figliastro. Cioè meccanismi che legittimano l'uterino affitto attraverso lo strumento dell'adozione. Ecco su questo sono molto attento, per questo mi piace molto il lavoro di Cristiana ma voglio ragionare su ciò che significa complessivamente genitorialità. Per me genitorialità deriva da un rapporto con paternità e maternità, che sono due soggetti che hanno necessità di avere un rapporto col bambino, ovviamente nel caso specifico ed estremo, che percentualmente siamo sotto l'1% della genitorialità adottiva, ripeto, ha una dimensione eroica perché quei papà e quelle mamme fanno un lavoro straordinario. Nel territorio, diciamo così, del dibattito civile, a mio avviso, rafforzare il senso di ciò che vuol dire essere padre, essere madre, ha a che fare con rafforzare il senso di ciò che è vero. Grazie. Grazie Mario Ecco Mario ha usato una terminologia forte, una terminologia importante, ha usato la parola violenza. Violenza quando definisce il processo con il quale chi in modo biologico non può avere dei figli cerca di avere qualcuno, quindi insomma abbiamo trattato la tematica dell'utero in affitto. Mario si è chiesto che cosa è vero e io mentre Mario parlava ascoltava Alessandro che diceva forse non è vero nulla. Allora ti chiedo Alessandro in che senso forse non è vero nulla. Lo dico senza provocazione, adesso capirete perché, ma avete la prova che almeno in Italia destra e sinistra non esistono più o c'è un'enorme confusione. Perché io non ero al corrente di questa svolta di Mario. Una volta me lo sono trovato a Uno Mattina insieme con Salvini contro di me sui temi dei diritti delle persone omosessuali. Per cui ho detto mi devo essere perso qualcosa perché io l'ho conosciuto e seguito e anche stimato per anni come un parlamentare del PD che fino a prova contraria era un partito di sinistra che aveva come dire nell'anima un certo contenuto riformista, non so più che cosa dire. D'altra parte perché non sono provocatorio, perché forse io ho fatto la più grande battaglia tuttora in corso per i diritti degli omosessuali e l'ho fatta dal centrodestra come liberale. Quindi non ce l'ho con Mario. Diciamo che io sono sempre stato lì, lui ha fatto un po' di strani percorsi però per carità sono tutti assolutamente legittimi. Bisognerebbe avvisare un po' prima oppure sono stato io un po' distratto. Ma ripeto non era polemica era per dire che c'è molta confusione sotto il cielo e non contano più per fortuna secondo me gli schieramenti perché è chiaro che se si mettono in ballo quelli che noi chiamiamo progetti di vita forse essere ingabbiati con una volta a destra e a sinistra non ha più senso perché è vero che in questo paese voi, noi abbiamo il divorzio e abbiamo l'aborto, lo dobbiamo a iniziative socialiste, liberali e radicali ma è anche vero che senza i voti della loro APC non l'avremmo mai avute. Quindi per fortuna sono temi trasversali sia in senso libertario, il mio, sia in senso come possiamo dire confessionale in un altro. Perché dico confessionale? Perché tu hai notato la parola violenza ma a me quello che più mi ha colpito è l'insistenza di Mario sulla parola verità. Beh è chiaro che qui non ci possiamo trovare, ci possiamo stimare ma nel discorso pubblico la verità non esiste. Almeno per quanto riguarda il modello di democrazia occidentale liberale che ha vinto la guerra contro i nazisti e i fascisti e la guerra fredda contro il comunismo. L'essenza del mondo libero prevede la neutralità assoluta dello Stato e del discorso pubblico rispetto ai progetti di vita, ai temi eticamente sensibili, alle scelte individuali. Lo Stato etico è esattamente l'opposto della libertà democratica occidentale. Lo Stato etico ha una sola verità, la individua in una ideologia o in un messaggio religioso e la impone a tutti. Questa non è democrazia occidentale e questa non è democrazia liberale. Non esiste una verità sulla genitorialità. Io credo che ogni donna presente in questa sala e anche forse loro due abbiano una loro visione della maternità che è già diversa da quella della donna accanto o della donna davanti. Così come credo che noi uomini dobbiamo avere il coraggio di dire Mario parla spesso delle donne. Io lo rispetto per questo suo ardire e anche secondo me per questo sopruso. Io non mi permetto di dire quale sia il vincolo che lega necessariamente la madre al figlio. È una narrazione maschile. Io voglio sentire ogni singola donna che mi dice quale è stato, quale è, quale potrebbe essere a livello fantasmatico se ancora non ha un figlio, il suo rapporto con il frutto del suo ventre. Quindi come dire, noi abbiamo una visione laica cioè neutrale e quindi massimo rispetto per chi vuole sposarsi, restare insieme tutta la vita, mai divorziare, mai abortire, mai tentare di adottare una persona da single, mai accettare l'ipotesi che si possa amare qualcuno del proprio stesso sesso. È un progetto di vita che fa riferimento secondo me a una, come dire, legislazione morale piuttosto restrittiva, ma se qualcuno la vuole abbracciare perché no. Ma nella dimensione dello Stato liberale, occidentale e democratico, uguale rispetto va portato a me o a tanti altri che hanno idee e impostazioni diverse. Io per esempio questa santificazione della famiglia che deve per forza avere un padre e una madre, innanzitutto non la vedo nella realtà. Io non so quanti di voi conoscano tuttora delle famiglie costituite da padre, madre e figli secondo il nucleo originario che stiano insieme da sempre e che continuano a stare insieme. La statistica ci dice che siamo circondati da coppie che finiscono e da bambini che sono figli di divorziati, di separati, di risposati, di riconviventi, di persone che hanno cambiato orientamento sessuale. Questa non è la verità che a me non interessa perché non sono un prete di nessuna religione, questa è la realtà. Lo Stato democratico occidentale liberale deve gestire la realtà, non deve imporre una verità, che poi in realtà sono tante, diceva Kant che è il mio punto di riferimento, dov'è la verità per dire che non c'è, ce ne sono tante ed è il senso bello della libertà, ma la verità poi voglio dire ce ne sono tante quante sono le persone, cioè non ce ne sono tante quante sono le ideologie o quante sono le filosofie o le religioni, sono le vite individuali, i vissuti e le aspettative di ciascuno di noi. Quindi se voi andate a vedere le statistiche che giustamente ha richiamato Mario sulle adozioni, io devo richiamare la statistica che qui stiamo parlando di un modello familiare, giusto, sbagliato, vero o falso, che non c'è più, non c'è più, per cui di che cosa stiamo parlando? L'Italia è il paese meno fertile nel mondo occidentale, 1,2 figli per donna, quindi di che cosa stiamo parlando? Le donne per una ragione o per un'altra, perché sono loro che fanno i figli, che li allevano dopo il parto ma che si riportano in grembo per nove mesi, non li vogliono fare più e non li fanno che siano cattolici, non cattolici, ex PD, PDS, PC, PD, di destra, di sinistra, non ci sono questa famiglia di cui si parla che io posso pure difendere perché per quanto laica io da una famiglia regolare vengo e ne sono felice, ma so anche di essere stato profondamente fortunato, io vedo i miei studenti, insegno in varie università d'Italia del nord e del sud, circa 500 studenti l'anno sparsi tra Napoli, Cassino, Venezia, Milano e Brescia, scusate, Como, Varese, di figli, di coppie tradizionali io ne ho pochissimi ormai, ma non lo considero né un fatto positivo non è un fatto negativo, è un dato di realtà, è un dato del periodo in cui mi è capitato vivere, allora secondo me una politica laica non può dire a tutti dovete far finta che esista questa famiglia, dovete uniformarvi e di conseguenza tutto ciò che ne deriva, la paternità, la maternità, l'adozione, da questo deve derivare, non solo perché non è tipico dei paesi liberali occidentali e quindi neutrali, ma perché non è più così? Allora mettiamoci d'accordo, o noi governiamo un mondo astratto, ma a me non mi interessa anche perché se ci sono qui psicologi, psicanalisti, psichiatri potranno ben spiegare che governare un mondo astratto è una forma abbastanza grave di tipo allucinatorio, oppure gestiamo la realtà nel rispetto massimo delle opzioni di ciascuno e attenzione come in tutte le battaglie del passato tra laici e cattolici c'è sempre stato questo squilibrio, i laici non hanno mai imposto nulla ai cattolici, i cattolici hanno sempre cercato di imporre tutto ai laici, come dicevo prima nessun laico ha mai preteso che un cattolico divorziasse o abortisse o amasse qualcuno del suo stesso sesso o cercasse di regolarizzare il suo rapporto, i cattolici hanno sempre cercato di impedire ai laici di divorziare, di abortire, di avere un amore del proprio stesso sesso. Finisco però con una nota positiva che debbo a lei, io ho passato i dieci anni più brutti della mia vita perché la mia controparte cattolica nel periodo razzingeriano è stata terrificantemente aggressiva e ha rialzato steccati che non c'erano più nel paese comunque, proprio perché tra l'altro oggi la chiesa cattolica in Italia ha un enorme potere politico, mediatico, finanziario ma non ha nessun potere sulle coscienze, sapete che le chiese sono vuote, i seminari sono vuoti, è un importante fenomeno religioso ormai assolutamente minoritario, se voi andate a vedere quanta gente si sposa in chiesa, da Roma a Nord scoprirete dei tassi di matrimonio civile che arriva al 90% in provincia di Trento e Bolzano. Però ripeto, dopo questi orrendi dieci anni in cui sono costretto a essere non laico ma laicista perché l'aggressione è stata violentissima, questo Papa ha dato un segnale meraviglioso di attenzione, di disponibilità e di rispetto che immediatamente io e noi abbiamo raccolto. Per cui oggi non abbiamo più un avversario in quell'uomo vestito di bianco ma abbiamo un interlocutore di grande statura morale perché non giudica e non condanna, propone la sua ricetta e la propone dall'alto di una tradizione millenaria, in questo caso di altissima moralità, ma non condanna e non giudica. Non so quando vorrei introdurlo, finisco su questo, ma io quando ho saputo che per il giubileo della misericordia questo Papa della Chiesa Cattolica, non fidandosi del vecchio clero razzingeriano, sta creando un drappello di sacerdoti a lui referenti che andrà in giro per il mondo a dare la soluzione a tutte le donne che hanno abortito e a tutti coloro che in un modo o in un altro le hanno aiutate, voi capite che il mio sospiro di sollievo, il mio allargamento di cuore per quest'uomo è enorme perché si è passati da una ferocissima persecuzione e da un grande sostegno agli obiettori di coscienza a un Papa che crea un rappello di confessori che avrà solo questo compito, salvare l'anima per chi crede, salvare il benessere psicologico dai sensi di colpa di tutte le donne che hanno abortito e di tutti coloro che le hanno aiutate. Capite che su questo vuol dire che non c'è più laico cattolico e che finalmente grazie a quest'uomo abbiamo la possibilità di lavorare per il benessere e la felicità individuale sia che si sia credenti sia che non lo si sia. Allora due piccole notazioni prima di passare la parola cristiana. Alessandro se tutto quello che tu hai detto fosse esattamente così anche su Papa Francesco sarebbe per noi cattolici veramente veramente insomma un po' complicata la questione. Allora sul drappello posso darti assolutamente ragione nel senso che c'è un drappello ma deriva dal diritto canonico il fatto di istituire nell'anno giubilare delle commissioni che possono perdonare tu cur determinati peccati che oggi vengono comunque perdonati perché chi abortisce e si pente ha diritto oggi ad essere perdonato dalla commissione semplicemente c'è un passaggio non ottiene il perdono tu cura attraverso la confessione ma lo ottiene attraverso la sottoscrizione della questione al vescovo ma non per il peccato ma per l'analisi del pentimento di chi lo compi perché noi cattolici perdiamo tutti i peccati e Papa Francesco su questo purtroppo vi svelo un segreto non ha cambiato nulla Papa Francesco è vero forse c'è un modo di raccontare le cose in modo diverso rispetto a Papa Ratzinger ma da un punto di vista del contenuto Papa Francesco non ha cambiato nulla di quello che era la credenza del chiero cattolico è vero ha detto sull'aereo chi sono io per giudicare un gay è vero ma ha detto chi sono io per giudicare un gay che cerca Dio concetto un po' più diverso da quello che poi dopo è passato sul giornale perché chi non cerca Dio che gliene frega di quello che pensa il Papa quindi scusami a me non me ne importa nulla di quello che pensa il Papa di me perché io non sono un suo fedele però tu non puoi essendo un'esperta politica di comunicazione non capire la portata gigantesca in una chiesa che non ha più fedeli ma ha un enorme potere politico mediatico finanziario in questo paese che dica questa cosa è stato diverso il modo di raccontare non il contenuto ma perché il contenuto non frega niente a nessuno siete quattro gatti quello che conta è che uno fa uscire dalla sala stampa vaticana che l'aborto verrà sempre e comunque perdonato in un paese dove nessuno sono sempre comunque perdonato ma non è stato mai detto non è stato mai detto dalla sala stampa vaticana è un segnale enorme io faccio il giornalista voi siete esperti di robe di chiesa un Papa che fa sapere dalla sala stampa vaticana ufficialmente riportato da tutti i giornali che l'aborto verrà perdonato da un gruppo speciale di confessori ha una valenza per i non cattolici straordinaria dal punto di vista del costume non potete non capirlo questa cosa quanto è importante solo se chiunque si penta ha diritto di essere perdonato non perdoniamo nulla a tu cura è semplicemente il fatto che questa commissione speciale è una commissione di vescovi con un potere istituito nell'anno giubilare non cambia nulla sto facendo finta di non capire la portata politica comunicazionale sul fatto canonico sono fatti vostri Alessandro capisco benissimo perché a questa decisione ho partecipato sono una commissione speciale per il giubileo e quindi so perfettamente che cosa fa allora state attenti perché se c'è chi non capisce che vi siete veramente pentiti non verrete perdonati è diventato un'inquisitrice non sono io che lo capisce il sacramento della confessione si fonda sul pentimento se chi non si pente non ha diritto non ha senso che va a confessarsi perché per essere perdonato devi pentirti il sacerdote si fa semplicemente tramite il penitente tu però sei una moderatrice o usi termini che posso capire anch'io perché per me la parola peccato pentimento sono insensati e qualcuno possa decidere se io ho diritto o meno ad essere perdonato per me è una bestemmia laica per cui o tu usi una terminologia che va bene per tutti oppure vi fate una riunione fra canonisti per me la parola pentimento, peccato, perdono che qualcuno decida se io ho sbagliato o non ho sbagliato è una cosa che per un liberale non può esistere nessuno lo decide il sacerdote è un problema vostro basta sul piano civile, pubblico quello che fa il sacerdote è ininfluente stai parlando tu della commissione Alessandro della commissione speciale hai parlato te ma per te a me per esempio il fatto che nei comandamenti sia peccato desiderare la donna ad altri ma la donna non può desiderare l'uomo ad altri già indica che siete dei maschilisti e dei misogini assolutamente abbiamo già risolto il problema uomo-donna da tempo comunque cristiana ti tocca signora chiedo scusa signora a questo punto ti chiedo ma tu cosa pensi di tutto questo la morale cattolica cristiana influisce davvero sulla volontà delle donne di diventare madri o no? ma al di là del fatto che diciamo condivido l'importanza al di là dei contenuti del comunicare viviamo anche in un'epoca in cui il nostro primo ministro fa della comunicazione uno degli elementi di maggior forza perché comunicare vuol dire fare arrivare alle persone quindi condivido la posizione di chi assume che un contenuto comunicato sia diverso da un contenuto che non arriva perché arrivando può spostare può determinare cambiamenti di opinione e quindi può determinare anche un'apertura da parte di chi non era chiaramente cattolico e di chi magari per una propria visione personale ha faticato nel pontificato di Ratzinger ad aprirsi invece a quest'uomo che io considero prima di tutto un uomo secondariamente un cattolico e come terza posizione il capo della chiesa cattolica umanamente trovo che sia una persona che abbia aperto molto perché dico questo? perché credo che qualsiasi donna che incorra nell'aborto non sia una donna che lo fa felicemente è una donna che fa un percorso di dolore perché si rende conto che potrebbe dare la vita e decide di non farlo e se si raggiunge questa decisione molto spesso lo si fa anche a fronte di una violenza subita perché la maggior parte delle donne che desiderano di abortire sono delle donne che hanno evidentemente subito una violenza e che quindi vogliono anche tagliare fuori un'esperienza negativa ci sono delle donne che decidono di abortire al di là del fatto che non abbiano subito una violenza io sono una liberale e quindi non mi permetto di giudicare né di valutare la coscienza di un singolo individuo che ha una cultura, una storia una relazione evidentemente con la propria idea di futuro con il desiderio di realizzare delle cose per se stessa con un'idea di maternità che io non posso giudicare e non posso valutare viviamo in un paese che a metà degli anni 70 ha deciso che l'aborto è un diritto io evidentemente sono in una fase storica della mia vita per cui non lo prenderei mai in considerazione ma ripeto sono una persona che crede che dare all'altro la libertà lo possa centrare possa dargli anche il beneficio di poter raggiungere la felicità quindi la libertà di farlo c'è a fronte del fatto che per una donna cattolica è importante avere il perdono evidentemente credo che sia importante che tutte le donne oggi sappiano che chiaramente chi abortisce non lo fa con il sorriso sulle labbra e chiaramente affronta un percorso di dolore quindi il concetto del pentimento rispetto alla cosa fatta forse può essere distante ma certamente si comprende anche la gravità diciamo biologica del gesto perché tutti siamo affascinati anche dall'elemento biologico al di là del valore spirituale perché è meraviglioso veder a me è capitato veder partorire delle donne io sono stata in Afghanistan in un ospedale di emergency un ospedale pediatrico ho visto partorire una donna vi assicuro che non c'è nulla di spirituale lì nel senso che è veramente immaginate come si possa partorire in Afghanistan in una stanza con quattro ferri hanno tirato via la placenta da questa donna con un ferro perché quelle sono le strumentazioni a disposizione ma io vi assicuro e non volevo piangere che è stata una reazione biologica cioè non avevo la possibilità di non piangere perché è così forte la vita è così forte la natura in quel momento e mi è successo anche vedendo partorire adesso mi prenderete per una pazza un vitello perché è la vita è proprio lo spettacolo il mistero della vita e della natura quindi a fronte del fatto che tutti siamo coscienti di questo una donna che è abortito credo che sia importante che oggi sappia che può tramite questi confessori avere una parola di conforto e forse chiudere un capitolo negativo della propria vita e aprirsi alla possibilità della felicità detto questo io non abortirei perché sono in una situazione assolutamente privilegiata ho un'età tale una testa tale per cui evidentemente mi potrei permettere di essere madre ma io torno a dire che anche a fronte dei diritti per i minori non è detto che tutte le donne possano essere e si possano sentire in quel momento di diventare madri quindi difendiamo anche il diritto della donna perché poi forse avremo meno problemi dopo perché ci sono delle maternità che per dei figli sono molto problematiche perché i figli che abbiamo visto dati in affido sono comunque i figli che sanno che sono stati rifiutati dalla madre perché sono figli che hanno memoria di quella cosa lì e sono figli che portano delle cicatrici e sono figli sui quali si deve fare un grandissimo lavoro psicologico e in fondo se la madre rappresenta anche metaforicamente la madre natura forse si sentono rifiutati anche dal mondo ecco io vedere questo in dei bambini così piccoli mi viene uno strazzo al cuore per cui apro la mente ad una possibilità che vi ripeto non condivido su di me ma che può essere di determinazione della maternità ancora prima educativa perché in questo ospedale che ho frequentato per una settimana si fa educazione perché ci sono delle donne che non sanno neanche come rimanere incinta e altre sì non sanno come non rimanere incinta in paesi in cui purtroppo la mortalità infantile sotto i cinque anni è altissima quindi è anche un fatto di diciamo di coscienza individuale che io appunto lascio all'individuo perché sono una liberale e spero di aver abbassato i toni della discussione grande Cristiana grazie Mario tu cattolico ma siamo davvero così pochi e poi lo chiedo a te io che di Papa Francesco sono assolutamente assolutamente innamorata e oltretutto insomma ho anche in qualche modo speso e continuo a spendere insomma buona parte del mio tempo per lui per la sua opera per quello che sta facendo per la chiesa ma io vivendolo dall'interno forse magari non me ne rendo neanche conto così profondamente allora ti chiedo ma veramente Papa Francesco è così come lo raccontano o meglio Papa Francesco è così o lo disegnano così perché io a volte trovo sui giornali li trovo delle cose che so perfettamente che Papa Francesco non pensa non penserebbe mai non vorrebbe mai dire allora ti chiedo come la vedi tu? quindi tu sei un interprete ufficiale del pensiero di Papa Francesco no io non sono un interprete ufficiale del pensiero di nessuno io ho detto no ho semplicemente quello che dice sui giornali tu sei certa che non sia vero sì quando io leggo sul giornale quindi sei un interprete ufficiale quando io leggo sul giornale non c'è bisogno di essere ufficiale o meno ufficiale perché ognuno interpreta quello che l'altro dice Papa Francesco non ha bisogno della mia ufficialità per essere interpretato ma semplicemente dico quando io leggo Papa Francesco apre alla genitorietà omosessuale io rabbrividisco perché è falso falso Papa Francesco riconosce l'unica famiglia che riconosce la chiesa cattolica che è quella fra uomo e donna e nessun altro e tutto il resto sono bugie trascrizioni giornalistiche cose che Santo Padre non ha mai detto e non ha mai nemmeno pensato ogni volta ti chiamerò per dire qual è il pensiero autentico guarda io posso dirti sicuramente un'interpretazione della realtà piuttosto che sui giornali è un'interprete autentica del pensiero vabbè allora Papa Francesco posso solamente dire una cosa tornando al concetto della genitorialità invece credo che sia riduttivo pensare a madre e padre come gli unici elementi di genitorialità nella vita di un individuo io ho avuto un'esperienza molto positiva da questo punto di vista perché ho avuto così un mio fidanzato storico l'ho conosciuto quando ero molto piccola siamo stati amici insieme poi ci siamo fidanzati siamo stati tanti anni insieme la mamma di questo fidanzato per me è stata una madre in un modo così amorevole così profondo che io le riconosco una genitorialità e non perché chiaramente fosse poi perché non chiaramente non è non sarà e non è stata una suocera però le riconosco di avermi dato delle cose che forse una madre ti può dare e riconosco che nella vita di un bambino se ci fossero delle figure che come delle figure non so immagino un insegnante potrebbe assolvere anche a questo ruolo di di riferimenti genitoriali lì si dovrebbe pensare di immaginare un concetto di famiglia allargata da questo punto di vista e anche i genitori madre e padre devono amorevolmente arrendersi al fatto che i figli di genitori ne hanno centinaia e sono tutte quelle persone che con amore materno e paterno insegnano qualcosa ai nostri figli e va aperta questa possibilità perché la famiglia tradizionale della coppia che fa figli è un nucleo di partenza meraviglioso che però deve avere la forza non egoistica di aprirsi all'idea che di genitori di madri e di padri ne esistono a centinaia e io mi auguro sempre che i nostri figli li possano incontrare ad ogni angolo della strada vero ma non potranno mai adottare Mario allora io cento padri no non li sopporto il dato che mi interessa più sottolineare è questo dibattito che è stato ripetuto io sono liberale io sono liberale io sono liberale mentre io sarei teocratico in questo caso secondo questo schema mentre io proprio la parola Dio Gesù non l'ho usata per niente io non ho in alcun modo posto i temi che ho posto in termini religiosi io li pongo in termini da cittadino io da cittadino potrei dire da intellettuale se non fosse una brutta parola mi interesso del tema della verità per esempio non è un tema secondario a mio avviso perché le leggi e questo ha a che fare diciamo col coté politico che ho svolto fino a un recente passato tendenzialmente devono cercare di normare ciò che è perché se provano a trasformare ciò che non è in ciò che è e cioè trasformano il falso in vero a quel punto ingannano quando la politica fa leggi che trasformano il falso in vero generano un inganno e i cittadini purtroppo hanno molti strumenti con cui vengono ingannati per esempio strumenti della comunicazione quindi in un piccolo consesso come questo ma importante rilevante forse è interessante riflettere su questa tematica e se sia effettivamente liberale affermare che la verità non esiste che tutte le verità sono uguali che ogni cosa è opinabile e io questo non mi convince ma non mi convince da cittadino non è che non mi convince da direttore della croce io sono direttore della croce perché ho un elemento di fede non riscoperta non sono un convertito io sono un democristiano che ha fatto una serie di passaggi arrivato dalla democrazia cristiana nel partito democratico è successo a Renzi è successo a un po' di persone questo tipo di lavoro abbiamo frequentato una certa scuola di pensiero pure io ho avuto riferimenti altissimi altissimi di gente che è morta che potrei riconoscere in termini paterni però allo stesso tempo mi domando e dico esiste un nucleo di verità indubitabile allora questa di oggi è la mia 167esima tappa e oggi pomeriggio faccio la 168esima di un tour che mi ha portato in tutta Italia per presentare un libro che si chiama Voglio la mamma che è un mio piccolo libro che ho scritto un anno fa e io ogni tappa questa qui ve l'ho risparmiata però per capire il tema della verità facevo sempre questa domanda perché il tema è questo veramente ma voi siete tutti nati da una mamma e da un papà e tendenzialmente mi risponderete che da un uomo e da una donna siete nati perché ormai ho la sperimentazione di 90.000 persone che mi hanno detto tutti la stessa cosa non si è alzato uno e mi ha detto no non è successo a me è successa una cosa diversa sono nato da due uomini sono nato da due donne sono nato da un elefante no non è andata così siamo tutti nati da un uomo e da una donna e in termini empirici vorrei dire rispetto al divulgatore scientifico che ho qui a fianco proprio in termini scientifici posso affermarvi che così è e quando vi affermo che così è visto che si citano i filosofi Husserl diceva la verità ha questa caratteristica non ha bisogno di essere dimostrata è auto-evidente allora questo elemento è a mio avviso auto-evidente questo elemento è un elemento indubitabile vogliamo ragionare su questo elemento di verità o vogliamo ragionare sul fatto che mi spiace Cristiana abbiamo 100 madre e 100 papà tutti quanti si il professore di filosofia si la nonna che ci ha fatto da mamma si la zia si nelle condizioni tutti noi abbiamo figure rilevanti ma l'elemento persino il bambino adottivo a un certo punto del suo percorso chiede da dove vengo da dove vengo pur essendo stato contornato di amore importantissima una figura quelle sì genitoriali materne e paterne che l'hanno cresciuto portato dove sono perché tutti noi di questo abbiamo necessità io sono terrorizzato da una società che costruisce sostanzialmente una visione antropologica in cui le persone sono cose perché a questo punto in una dimensione di questo genere in una dimensione in cui il seme maschile e l'uomo femminile sono elementi di compravendita che possono essere mescolati come ci pare in una condizione genitoriale che è quella che va bene lo stesso e poi alla fine tu nasci da un ventre di un povera donna che è in una condizione in stato di bisogno a cui allunghi i tuoi spicci e ti freghi il bambino comprandotelo comprandotelo perché quello è il meccanismo la step child adoption è una compravendita di un essere umano è una riduzione in schiavitù di una donna questo è allora questo schema se viene normato perché il mio problema è se ne parliamo io e cecchi paone bene e male vabbè facciamo un po' di spettacolino finiamo a uno mattina e amen ma se queste cose vengono normate cioè parte una legge che in questo momento è in discussione in Parlamento in questo momento la settimana prossima si decide se avviare il voto su un DDL che si chiama DDL Cirinna che vuole la step child adoption che permette a un senatore di questo Parlamento repubblicano che ha fatto una pratica di utile di affitto di andare alla NACF e dichiarare che quel figlio non ha una madre allora dal punto di vista tecnico al di là i liberali non liberali è vero tutto non è vero un cazzo è vero o no che quello ha una mamma per me quello ha una mamma ed è vero e se glielo neghi operi una violenza e se quella violenza la operi facendo leva su una condizione di bisogno mettendoci del denaro e strappando violentemente a chi ha generato quel bambino io dico che stai costruendo una dimensione della famiglia ragazzi folle Alessandro stesso ha detto sono fortunato che è senato una condizione di famiglia stabile io non la chiamo tradizionale io non la chiamo neanche naturale non la chiamo neanche famiglia per tutta la vita o del mulino bianco ma una cavolo di condizione oggettiva per cui tu sai chi è tua padre e chi è tua madre tu lo sai tu lo sai io lo so lo sappiamo tutti e questo è ci vogliamo togliere questo spinotto dalla realtà non la chiamiamo verità chiamiamola realtà e trasformare ciò che non è in ciò che è gli esiti sono pericolosi Mario io ho solo paura che questa ricerca delle origini delle radici in situazioni non fortunate Alessandro ha detto che è stato fortunato io sono stata fortunata forse la maggior parte di noi qui è stata fortunata e ha avuto chiaramente un padre e una madre però io ho paura che a livello proprio di come dire valori sociali per i quali ci spendiamo la ricerca ossessiva delle radici possa spostare un'esigenza sociale un'esigenza valoriale culturale come esigenza individuale di un bambino che alle origini alle radici forse è meglio che non vada perché se non è nato da un povero non deve dare le radici se non è nato da un violentatore non deve dare le radici Mario scusami quello è quello sarà comunque Mario ma assumiamo il fatto che per un bambino sentirsi rifiutato da una madre e quindi riuscire a ricostruirsi una vita è un elemento di dolore ma non puoi negargli la verità ma io non voglio negare la verità però tu hai una serie di certezze che io non ho forse deriva dall'età forse deriva dal percorso personale per cui mi chiedo è originario del bambino il desiderio di ricercare le proprie radici tu sei sicuro che quel desiderio è originario scusate signori fatemi finire oppure è culturale perché se è culturale io dico che a me non interessa la cultura è biologico è biologico è come te piangevi davanti al vitellino hai visto la vita hai detto cazzo quella è vita ecco un bambino che vuole sapere da quale vitella è nato non c'è niente da fare è un elemento ma non è detto che quel momento che mi ha emozionato debba essere per una creatura la ricostruzione di quale è stato il momento in cui è nato detto che il momento in cui siamo nati non ce lo ricordiamo perché nessuno di noi se lo ricorda però Cristiana ascoltami allora noi abbiamo non lo so immaginiamoci un bambino che è figlio scusate e poi conosco bambini adottati che non hanno mai voluto sapere da madre e padre mai voluto sapere ed è una realtà Cristiana abbiamo abbiamo un bambino adottato che ha due papà a un certo punto tu pensi che la domanda io da dove vengo perché da voi due Francesca scusami io non sto parlando dell'utero in affitto dell'adozione per gli omosessuali scusate forse ho fatto confusione io sto semplicemente dicendo che temo ho paura è una diciamo una riflessione che faccio ad alta voce che per un bambino adottato da una coppia mamma papà andare agli origini quindi alla ricerca della propria mamma biologica del proprio papà biologico possa non essere un'esigenza personale personologica individuale originaria ma possa essere invece un'esigenza che nasce da una società che evidentemente può fargli venire in mente che è necessario andare a ricercare il momento biologico della propria creazione signora guardi l'uomo è sicuramente istintuale perché siamo anche degli animali ma è soprattutto coscienza perché a differenza degli animali ci hanno dotato di una coscienza e di un libero arbitrio Alessandro ma Alessandro due per un bimbo due papà vanno bene? Per un bimbo due papà vanno bene? Per un bimbo due persone che lo amano vanno bene ci sono padri e madri che devastano i loro figli fisicamente psicologicamente e sono maschi e femmina secondo me non è un fatto di sesso proprio perché come diceva lei non siamo animali abbiamo una roba che si chiama corteccia cerebrale che non hanno gli altri animali e che ci permette una profonda elaborazione culturale e non biologica della nostra essenza per me quello che conta è che le persone ripeto per me ne basta una che ha la responsabilità non solo giuridica ma affettiva culturale di tutti i generi non manchi mai e sia profonda e vera poi il sesso per me è abbastanza indifferente io non non credo così come sono convinto che la religione quanto di meno biologico e quanto di meno animale esista di conseguenza credo che anche la normazione dei rapporti affettivi e familiari sia quanto di meno naturale e biologico esista è puramente e solamente culturale mentre parlava Mario leggevo il giornale non per scortesia ho ascoltato perfettamente tutte le cose che ho detto per capire alcune cose e sempre fuori di polemica lui dice il mio non è un atteggiamento confessionale non è un atteggiamento religioso si chiama la croce il giornale direi che più chiaro più chiaro di così non c'è niente di male ma così come io ho dichiarato la mia ascendenza dalla tradizione liberal democratica occidentale ho citato Kant potrei citare Benedetto Croce intesa non come croce ma come Benedetto il quale mi ha insegnato che l'unica religione che ci unisce è la religione della libertà perché tutte le altre dividono ha insegnato che non possiamo non dirci cristiani certo in questo senso qua in questo senso qua certamente come mondo occidentale però dico uno che dirige fonda e dirige la croce non c'è niente di male ma è chiaro che parla a un tipo di pubblico e su un certo tipo di impostazione poi ha detto che negli incontri che fa non c'è nessuno che si alza a dire io sono andato da un'altra parte però vedo qua se mi inviti io vengo volentieri ma oggi tutti incontri con un gruppo di persone che sono sia la famiglia scienza e vita che da sempre ha combattuto divorzio e aborto alleanza cattolica il faro meggiugorie insomma è ovvio che quelli che sono da te la pensano tutti come te e che quindi sono lì a testimoniare una visione della vita che è legittimissima e sacrosanta che io vedete mi avete un po' aggredito e mi dispiace perché io sono realmente convinto che con Papa Francesco sia nata una nuova stagione che fa bene all'Italia io sono convinto che Ratzinger e Ruini abbiano fatto molto male all'Italia costringendola per dieci anni a ritrovare da una parte e dall'altra toni risorgimentali toni risorgimentali dai quali non ho nessuna paura come dire dai quali non ho nessuna paura a tornare ma non ne avevo nessuna voglia io non credo che abbia fatto bene a questo paese scannarci come abbiamo fatto per dieci anni per iniziativa vaticana nessuno di noi ripeto ha mai voluto imporre nulla ai cattolici ma per dieci anni noi abbiamo dovuto come laici riprendere le insegne del risorgimento laico e della nostra affiliazione occidentale liberale democratica perché siamo stati costretti io quello che vi dico è che al di là di quello che fa a livello canonico e interno che non solo rispetto ma che non voglio conoscere perché sono fatti vostri io vi dico che il messaggio che non è casuale perché Papa Francesco non è l'ultimo arrivato padre Lombardi non è l'ultimo arrivato e potrei citare tutta una serie di nomi che finalmente hanno dato una nuova aria relazionale con l'esterno alla curia Parolin non è quello di prima non so se mi spiego e non ha lottizzato la RAI allora io dico qui c'è un'atmosfera nuova che io colgo mi sembra che la colgo più io da non cattolico che voi sembra che alcuni di voi siano nostalgici dello scontro ma se volete facciamo anche a cazzotti io sono un laico che viene da una famiglia che ha dato camice rosse alla spedizione dei mille quindi voglio dire abbiamo fatto la Repubblica Romana abbiamo fatto l'antifascismo laico e liberale mentre i cattolici con i nazisti e i fascisti facevano l'asse Roma-Berlino quindi voglio dire non ho nessuno beh il concordato del 29 è un patto fra Mussolini e il Vaticano per cui voglio dire nessuno lo può negare e nessuno ha detto una parola né contro le leggi razziali né contro l'alleanza con Hitler né contro il nostro schieramento dalla parte opposta della civiltà occidentale però ripeto con questo Papa io mi baso non sulle sue scelte canoniche che non mi riguardano per cui neanche le giudico non lo so io so che quando lui parla urbi e torbi cioè al mondo non alla sua chiesa non a voi dice delle cose che in parte mi trovano d'accordo e quando non mi trovano d'accordo sono portato a rispettarle per il tono e il modo un uomo che dice parliamoci da posizioni diverse che nessuno vuole cambiare ma con un atteggiamento di misericordia a me mi si apre il cuore e io insisto sono pronto a parlare sono pronto ad abbassare i miei standardi anticlericali che non avrei mai voluto rialzare quindi non lo so se a voi questa cosa non piace mi volete mi volete battagliero io ci sto ma ero qui venuto con un ramoscello d'ulivo e vorrei uscire di qui con un ramoscello d'ulivo dicendo l'atteggiamento nostro è questo è di grande pragmatismo il bambino ha bisogno di qualcuno che si occupi di lui secondo me anche in termini di legge perché giustamente pone un problema di normativa Mario ha bisogno di un un singolo adulto che per tutta la vita fino alla morte e poi in maniera testamentaria si prenda cura di lui perché chiunque conosca la vita umana sa che la vita umana è imprevedibile che la vita umana va per zig zag che la vita umana è piena di fratture è piena di fatti inaspettati quindi insistere per avere una coppia e per di più una coppia eterosessuale vuol dire mettere quel bambino di nuovo a rischio secondo me secondo me la adozione del single garantisce a quel bambino che quell'adulto ci sarà sempre mentre che quella coppia che l'adotta ci sarà sempre anche se eterosessuale purtroppo non è affatto vero perché quella coppia come tutte le coppie anche se è vero che l'adozione cementa perché ci vuole veramente una pazienza e un amore reciproco per sopportare gli anni di attesa e di prove però non è affatto detto che duri per quanto più santa possibile protetta dallo spirito santo quella famiglia può avere uno dei due che impazzisce che si innamora di una ballerina che si innamora di qualcuno di un altro che scappi via tutto può succedere per questo dico pragmaticamente che io vorrei un adulto tenendo conto che quei bambini arrivano già da una famiglia sfasciata per cui hanno già un'esperienza del fatto che le famiglie non funzionano sempre anzi io ve l'ho detto non è una mia opinione non dico neanche che sono felice ma oggi la famiglia nucleare tradizionale stabile quella che per fortuna quasi tutti qui abbiamo avuto non c'è più non esiste di che state parlando non c'è dal punto di vista numerico e se non vi interessa parlare dell'Italia perché chiaramente anche su questo l'Italia è spaccata ancora un po' ci si sposa e ancora un po' ci si sposa in chiesa nel sud ma basta che passate le Alpi la famiglia di cui parlate voi non c'è più da che cenni per cui questi paesi che veramente vengono accusati di seminare semi di pericolo a parlare detto Mario di inciviltà che è assolutamente sincero e in buona fede non ci sono e questi paesi cercano di come dire di dare assetti a un mondo nuovo che già c'è io vi cito Cameron sempre a proposito che non c'è più destra e sinistra che disse quando volle imporre il matrimonio omosessuale io lo dico imporre secondo me non c'era bisogno in Inghilterra funzionava benissimo la loro versione dei pax delle unioni civili l'avevano già anche come dire applicata Elton John e David Furnish io sinceramente proprio perché sono un pragmatico e un moderato ho detto ma basta noi abbiamo manco quella voi già volete andare oltre state contenti lui ha voluto imporre un passo avanti verso il matrimonio per cui adesso c'è il matrimonio gay in Inghilterra e lui ha detto io l'ho voluto da conservatore perché comunque una coppia riconosciuta legalmente al di là dell'estrazione sessuale dei membri è un elemento fondante e strutturale della società quindi lui ha voluto il matrimonio omosessuale perché ha detto una coppia omosessuale unita solo da un mezzo matrimonio come il pax o come gli unioni civili garantisce la stabilità sociale molto meno di un matrimonio quindi ha fatto come dire un salto in avanti uno strappo di cui io non sentivo il bisogno ma di cui probabilmente approfitterò perché io non credo che potrò mai sposarmi qui in Italia e quindi dovrò per forza andare all'estero ma voglio dire ha fatto questo strappo in nome della stabilità in nome della conservazione dell'ordine sociale quindi come vedete sotto il cielo non solo la confusione ma per fortuna anche la variabilità come diceva lei delle scelte individuali ormai è talmente è talmente andata avanti che non la potete fermare fermarla è proprio un tentativo non solo non giusto dal mio punto di vista ma anche inutile e disperato aggiungo sempre sperandoci sia in sala qualcuno che sia psicologo psicheionista o neuropsichiatra il titolo voglio la mamma individua chiaramente una profonda radice di tipo edipico nell'approccio del mio amico Mario con l'affermazione di Alessandro che il nostro Mario è freddo da un complesso edipo non risolto uno che dice voglio la mamma dai tutti vogliamo la mamma infortunatamente vogliamo vogliamo parli per lei comunque posso un attimo solo passiamo la parola alle domande signori ma in tutto questo i papà ma poveretti ma voi uomini non dite niente voglio la mamma tutti vogliono la mamma io ogni tanto dico voglio papà perché il ruolo del padre a livello sociale è fondamentale adesso la signora mi diceva dell'importanza di andare alle radici biologiche alla mamma e mi sembra anche tanto un modo dato che mater certa est pater nunquam mi sembra tanto che sia fondamentale per le donne ribadire il ruolo che assumono quando diventano madri ma il padre svolge un ruolo fondamentale e lo svolge sapendo che probabilmente quel figlio potrebbe non essere suo perché la certezza biologica non tutti ce l'hanno non tutti hanno fatto il test del DNA e questi uomini svolgono un ruolo fondamentale pur avendo il dubbio forse qualcuno se l'ha che quel figlio possa non essere proprio quindi io rivendico il ruolo fondamentale del padre voglio il papà signora non si può parlare perché questo qui non è un colloquio stiamo parlando noi appena abbiamo finito le faccio fare la domanda sia serena e questo è anche il luogo giusto dove dirlo se non può sempre seguire Mario a Sassuolo insieme con tutta l'alleanza cattolica Meggiugorie e tutti gli altri Cristiana scusami no dicevo solamente che al di là del prendere spunto da voglio la mamma che i padri dei quali si è parlato pochissimo perché si è parlato di madri si è parlato di uteri in affitto i padri svolgono un ruolo fondamentale e ripeto non era una battuta a riferirmi a Mater Certa Est anche la signora signora abbia pazienza sta parlando Cristiana arrivederci vi do una preghiera anche per me che non ho rapporti lassù perché credo che invece diciamo sottolineare la necessità di arrivare alle radici e purtroppo la radice è anche per dei bambini che magari sono stati adottati e poi vogliono risalire alla madre molto spesso si riesce a risalire solo alla madre perché c'è una testimonianza di un momento in cui quella donna che ha quel nome quel cognome ha partorito in quell'ospedale e questo non ti consegna il padre che invece svolge un ruolo fondamentale quindi mi dico la difesa della maternità a tutti i costi peraltro non che io non la difenda però mi sto ponendo un dubbio e sto ragionando a voce alta con voi per capire se questo non sia anche da parte nostra da parte delle donne la necessità di ribadire a che ruolo sociale si va a ricoprire diventando madri però se la maternità torno a dire è un fatto soprattutto spirituale di educazione di un'anima il fatto biologico può essere relativo soprattutto per chi crede che quel dato biologico sia l'inizio di un percorso spirituale parlo per i cattolici per cui il momento biologico può essere solo un momento di inizio e probabilmente quindi una maternità adottiva può essere una maternità reale concreta che può portare anche quel bambino non necessariamente a ricercare il momento biologico soprattutto lo dico per i cattolici che credono che una vita sia soprattutto spirituale più che corporale bene siamo alle domande allora quattro domande soltanto la prima quella signora per favore mi aiutate per favore quella signora la eccola sono emozionata quindi spero di essere chiara dunque grande rispetto per le diverse concezioni della vita perché sono concezioni nelle quali uno si trova in buona fede o per cultura quindi per carità ognuno è come si sente e deve essere però c'è un fatto ognuno di loro ha dato una propria opinione che nasce da una convinzione culturale però c'è un fatto che forse ancora di più di noi uno psicologo uno psichiatra potrebbe dare chiarezza un fatto iniziale anche questo che il ricercare un padre una madre una radice è un fatto guardi signora è un fatto atavico atavico se lei prende esce dal ventre di una madre un bambino e lo si mette si appoggia i piedini appena appena su un tavolo nessuno gli ha insegnato a camminare lui muove rotea le gambe e quindi volevo dire questo le faccio un mio esempio piccolo vengo da una famiglia molto interessante che ha avuto una storia io ogni tanto mi raccontava mia madre guarda ha detto nonno non aveva fatto questo e quell'altro e ha dato mi ha dato più forza di andare avanti sapere di conoscere da quale parte io potevo essere che carattere potevo avere che interessi nascevano dal fatto che avevo un'ozione è importante questo ma per esempio nel caso della come si chiama della questa commissione di gametico silfile di chiamiamolo artificiale io se fossi nata da un'esperienza di questo tipo impazzirei mi creda il sapere che esco da un incontro da un commercio di un gamete che si inserisce io sarei personalmente impazzirei grazie signora grazie noi siamo Alessandra noi siamo testimoni della sua fortuna della fortuna che lei ha avuto siamo tutti testimoni siamo tutti esterefatti dalla fortuna che ha avuto di riuscire a ricostruire la sua vita familiare per molti non è stato così ci sono dei bambini che nascono da madri che muoiono dandogli alla luce ci sono bambini che perdono il padre perché muore in età molto giovane e non hanno questa fortuna signora lei è una veramente fortunata però io mi chiedo i bambini che non hanno avuto questa fortuna come come la mettiamo con questi bambini vogliamo lasciare a questi bambini la possibilità di essere felici di costruirsi una vita di riuscire ad amare la vita amare il mondo anche se non hanno la possibilità di andare alle radici biologiche della loro esistenza è però dobbiamo lasciargli culturalmente questa libertà perché se ribadiamo se ribadiamo la necessità la bellezza quasi il fondamento di una serenità perché lei diceva mi ha dato forza il fondamento della propria forza nell'andare indietro a ricercare le proprie radici chi questo percorso non lo può fare non può culturalmente sentirsi spinto a farlo proprio perché noi lo riteniamo così importante posso fare una chiosa non irrispettosa ma ho già citato Kant ho citato me l'ha detto Croce fatemi citare Woody Allen è vero che è pieno di gente io l'ho ospitate tutti i miei programmi per decenni che cerca il padre e la madre ma è pieno di gente che cerca di liberarsene per decenni pagando un sacco di soldi dagli psicanalisti bellissimo allora le altre tre persone che devono fare la domanda allora uno due e tre ok allora io rapidamente perché sì mi sembra che sia stata fatta un po' di confusione su alcuni aspetti un conto sono i diritti degli omosessuali quindi l'affettività e la sessualità di uomini con uomini di donne con donne che sui quali a mio avviso nulla osta perché penso che sia doveroso in questo senso un conto è la genitorialità e l'adozione e i figli io sono totalmente completamente assolutamente d'accordo con Adinolfi totalmente ma per un motivo molto semplice lui ha cercato di usare tre termini e non sono i termini giusti verità naturale e biologico e dicendo verità chiaramente si è esposto a un appunto che sul quale non non si può discutere perché la verità cos'è la verità il termine corretto è fisiologia fisiologia cioè un bambino nasce da un atto fisiologico non è la verità e sull'atto fisiologico non c'è realmente da discutere allora si potrebbe dire che la fisiologia è la verità uno che beve avvicina un bicchiero alla bocca introduce l'acqua che scende nell'esofago e va allo stomaco potrebbe anche farsi una lesione al timpano e attraverso l'orecchio interno e le tube arrivare al palato e quindi introdurre l'acqua magari chinando la testa così questa non è la fisiologia non è la fisiologia quindi su questo non c'è alcun dubbio e non si deve discutere poi dopo sulla sessualità sui modi in cui si può estrinsecare la sessualità la sessualità l'omosessualità esiste dalla notte dei tempi quindi ognuno fa quello che gli pare fa quello che crede che desidera ma una famiglia è fatta da un uomo che feconda una donna e da cui nasce un bambino e questa è la fisiologia su cui non esiste discussione non è che si può dire ma io la intendo no grazie non c'è da intendere grazie grazie la ringrazio la ringrazio per la disponibilità lasciarmi vivere la mia sessualità già un passo avanti rispetto a pochissimi anni fa la fisiologia come la racconta lei è vera però le dico che su questo tavolo l'unico ad aver seguito questo percorso è Mario noi tre non abbiamo figli quindi per dirle che lei parla di una fisiologia che non viene più applicata da nessuno qui lei lavora con il Vaticano io no lei capisce il senso dell'intervento insistite a parlare di un modello non applicato in quattro qui uno solo Alessandro Alessandro guarda posso poiché ci di una cosa personale ti dico io la fisiologia la applico il problema è che non succede nulla quindi speriamo spero nell'altissimo non dovendo e non volendo in altri modi ma io li volevo arrivare aspetta Alessandro noi ti diamo delle opportunità scientifiche non le voglio non le voglio perché se Dio non vuole perché se Dio non vuole che io sia madre nel modo in cui lui ha creato non voglio esserlo perché non voglio essere a tutti i costi perché se non essere non sarei un ipocrita nel dire che sono cristiana e poi cerco altri modi per diventare madre il mio modo per diventare madre è quello che Dio ha creato poi se non sarà così sarò madre in altri modi adotterò un bambino farò qualcos'altro cioè qualcos'altro non è fisiologico no qualcos'altro di non fisiologico adottare un bambino no adottare un bambino non è fisiologico ma comunque è un atto non è fisiologico ma comunque è un atto di come posso dire di accoglienza di una vita all'interno di una coppia che fa bene alla coppia e fa bene alla persona che lo riceve se non è fisiologico perché non lo possono fare due uomini se mio marito andasse ad affittarsi un utero per avere un bambino quello non è fisiologico perché quel bambino non sarà mai figlio mio sarà sempre figlio di sua madre punto scusate no io dico una cosa è una provocazione non che io non la condivida lei è medico non è fisiologico il defibrillatore cioè lei lo capisce questo che c'è una tecnologia che si applica al corpo umano aspetta no mi faccia finire mi faccia finire no 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 mi faccia finire ma per estremo per estremo fisiologicamente dovrei farmi morire no ma non è questo è l'estremizzazione di un concetto scusate no allora ho anticipato dicendo che è una provocazione cosa intendo dire io non sono d'accordo con l'utero in affitto io sono d'accordo in relazione al fatto che una madre in qualche modo al di là dell'affido e al di là dell'adozione arrivi naturalmente e biologicamente dove può arrivare ma perché non mi piace il concetto della maternità a tutti i costi perché trovo che forse lì c'è un po' di ossessione e mi fa paura psicologicamente psicologicamente sulla donna però per estremo quando lei parla di fisiologico si deve aspettare una persona che le dice che il defibrillatore non lo è perché se seguiamo per estremo questo ragionamento il defibrillatore non è fisiologico nell'era ragazzi nell'era nell'era della nell'era mi scusi dottore 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 nell'era della tecnologia applicata alla per esempio già solamente alla possibilità della longevità della vita umana qual è il punto è che si arriva all'applicazione della tecnologia nel campo medico che però fa intervenire un fatto di coscienza è un fatto di coscienza che però all'interno di uno stato laico non può essere considerato perché siamo uno stato laico detto questo io non farei mai utero in affitto perché non mi interessa come modo di arrivare alla maternità perché ritengo che ci siano dei modi diversi di maternità tra cui quelli di cui parlavo prima che si può essere materni nel modo di amare anche i figli degli altri nel modo di essere zii nel modo di essere insegnanti nel modo di essere medici con i propri evidentemente giovani stagisti però ritengo che la tecnologia applicata alla medicina che oggi tiene in vita forse la maggior parte di noi perché con una febbre a 39 nel 600 te ne andavi al creatore e oggi non succede porta all'estremo un ragionamento che però scivola dalla scienza alla coscienza all'etica che però sono materie di cui lo stato laico non si può occupare basta l'altra domanda e le altre due domande al volo 30 secondi e poi chiudiamo no volevo difendere un pochino lui lui intendeva che veramente guardi veramente 30 secondi perché dobbiamo chiudere qui c'entra il terzo soggetto che è il bambino il fisiologico vabbè niente io sono padre di una famiglia un po' strana un bambino l'adottato uno biologico uno in affido rimasto in famiglia e poi abbiamo altri sette bambini in affidamento e vi garantisco tutte e tre uguali ci chiamano babbo e mamma quello adottato vuol sapere le origini abbiamo concesso tu puoi andare a trovare a chi ti pare così facendo non ci va perché è contento così bravo quello in affido ci chiama babbo e mamma la sua madre vera ogni tanto viene anche a trovarci e in quel momento lì smette di chiamarci mamma e babbo chiama mamma lei vabbè poi non è vero non è vero non è vero che i bambini abortiti sono tutti frutto di una violenza perché la maggior parte no ci sono casi no la maggior parte non è vero niente perché qui in Italia su cinque bambini che vediamo uno è assente quindi c'è un rapporto uno a cinque che sono tutti frutti di violenza non ci credo sì allora cerchiamo di inculturare queste popolazioni insegnarli come si fa a non avere i figli no è cattolico perché la procreazione responsabile è questa vero Mario eh ma anche queste sono statistiche che dite voi che dite voi comunque l'anticoncezionale non è un peccato grave come l'aborto sì che no no non cominciate allora non è un non è un omicidio non è un omicidio l'anticoncezionale a meno che non sia la spirale che è abortiva non è un omicidio l'anticoncezionale anzi e voi passate anche come anticoncezionale la pillola abortiva e questo è sbagliato perché è abortiva voi fate una mistura di cose per poter farle passare dalla legge no io voglio soltanto queste testimonianze che i figli adottivi affidati sono veramente figli si sentono figli allora l'ultima domanda per cortesia l'ultima domanda l'ultima domanda per cortesia Alessandro grazie a Dio che non è vero quello che tu dici che le famiglie ancora in Italia la maggior parte degli italiani sono famiglie grazie a Dio dai l'ultima domanda e chiudiamo io non è che volevo fare una domanda volevo fare solo una riflessione io sono un padre di quelli che si alzi si alzi per cortesia che non la vedo sono un padre di sette figli tutti dalla solita moglie lei la fisiologia ha fisiolato meno male quindi non mi sento diciamo escluso dalla realtà italiana è come diceva Alessandro posso dire Alessandro ti do di tu ma mi sento in questa realtà chiaramente è quella italiana e quindi non credo neanche di essere pochi perché conosco altre famiglie che sono naturali chiamatene come volete perché ora sono diventate delle famiglie e ci tocca essere diciamo così cioè siamo messi ai dito chi ha sette figli ce ne ha cinque ce ne ha quattro sono dei mostri siamo dei mostri perché siamo pochi ma siamo anche dei mostri allora dico questo perché no 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 ma io non mi sento accusato questo in genere lo dico così con semplicità dico anche però che riguardo a quello che dicevamo e che penso se si entra sul religioso destra sinistra religioso non religioso non si va da nessuna parte perché sono posizioni diverse secondo me è importante invece il diritto del bambino e come ha detto il Papa ma non lo cito come discorso religioso lo penso che si possa essere d'accordo anche come laici un bambino ha diritto a un padre e una madre ha diritto a una relazione di due persone di sesso opposto questo lo deve vedere questo lo deve vedere per questo se per questo io sono contrario all'omogenealità come si dice al fatto che lo possa essere un singolo ad adottare il resto poi i diritti omosessuali cioè tutto mi sembra sia lecito tutto in questo caso ma se si guarda il diritto di un bambino un bambino ha diritto a un padre e una madre e a vedere la relazione di un padre e una madre questo lo dico per esperienza non lo dico perché l'ho letto sui giornali o me l'ha detto qualcuno o perché sono cattolico lo dico perché lo vedo nella mia famiglia grazie a tutti grazie a tutti grazie ai nostri relatori grazie Francesca vuoi fare un salutino? soltanto per ringraziarvi è stata una bellissima discussione accesa quindi grazie di cuore a tutti ai nostri super relatori e bene abbiamo riflettuto e ci portiamo a casa qualcosa di importante grazie grazie